Ciao sono Colkenji e oggi continuiamo Mark of the Ninja Quindi continuiamo Senza farci scoprire Visto l'altra volta Allora, vediamo un po' Vediamo Ok Oh cazzo 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 Ok 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 Vogliamo far cosi Ok Sospetto di quello Quello lì se ne vada Da lì Allora Torna indietro Oh Che Ok Ok Che farò mai Allora Già non mi ricordo neanche più i tasti Allora Vediamo un po' Sembra Allora O Cazzo 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 Non Ok 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 adesso dobbiamo fare così e muori ok via e ok ci vediamo giù di qua la scoperta stanno prendendo ninja e nostalgia e maestro zai in pericolo ok dobbiamo affrettarci potete usare la mappa per individuare i tuoi obiettivi primi tab ok tab ok devonarlo ok va bene devo fare così tanto per farci sentire un po' ok vediamo che passi ok e muore 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 perfetto ok chiudiamoci ok 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 questo è tutto è fino alla venuta sbloccaggio ciao perfetto allora cosa facciamo ma vabbè 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 vambi a passare da sopra vediamo vediamo che succede questo faccia qualcuno E muore anche tu Salviamo questo Perfetto Allora Dobbiamo passarla sotto Perché si blocca raga raga Perfetto 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 Allora Tab dove deve andare Vediamo finire qua Ok Ok Quindi ci tocca andare sul tetto Perfetto ah ok due pure ok oh merda adesso di se ok vero nascondere non fa niente andiamo poi avanti Allora Di 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 Allora qui Allora Allora Della azione Della azione Allora Qui Qui Poi Via Oh Sbagliato Sbagliato Oh Sbagliato Beh Lui dovrebbe uscire Quindi Eh ok Non è stata proprio Una cosa Oh merda 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 Ok Ah ok Chegiamo sotto Tutto Vabbè Ok Passare Lassopra Mentre se faccio il giro di là Mh 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 Zuck Mh 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 Di Ehi Mh 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 Tutto quello Che dovevo fare Mh Mh Ficare Dicato Mh 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 Ok Oh, è inseribile e la nostra honore Mi vedo che questo giorno avrebbe avuto e quindi ho chiamato a un campionato per combattere per noi ha accettato la prima marca ha avuto il clano a una costa si è andato così così probabilmente va bene passiamo al prossimo livello usate le tecniche di respirazione che ti ho insegnato che avrebbero avuto il dolore mi raccomando la storia dell'Ink e dei campioni che venivano prima te prima la ristorazione as the other clans strayed and disbanded a merchant sold us a secret he led us to a flower whose petals burned with toxin put the toxins in your skin and you will gain great and strange powers but those powers will drag you into madness that is why every champion vows to end his own life before he destroys himself and the clan swore to go to we must act quickly count Karijan is the head of Hessian services he is responsible for the attack on our clan his tower stands behind ring upon ring of security you must kill him before he can attack he is the head of the attack on our clan ma è fuori da perimetro appena dopo crepusco tab vediamo la mappa vediamo la mappa Ok Ok The main transformer Should be nearby Destroy that And you'll bring down All the lights For a time guardiamo di cuore e andiamo solo che adesso mi individua questa roba andiamo qua qua c'è niente andiamo questa questa oh merda andiamo 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 che stelta ragazzi all'aria un po' ok il trasformatorio dovrebbe essere qui vicino ma attento perchè passare le blu di crono di guardia ok vediamo un po' oh ok 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 sì devo pensare meglio a quello che faccio è ok 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 vediamoci il metodo giusto ok 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 Ehi, ho una visibilità sull'argete! Il Transformers dovrebbe essere vicino, ma guardatevi, i Catwalks stanno scappando con i guardi. Ehi! Ok, duele un bel. Ehi! I know you're here show yourself Fals alarm Ok I heard that man down Oh merda Oh merda Potevo anche non ucciderlo Quindi Quello incocunato Vi lascio Qui Quindi iscrivetevi Commentate Un bel mi piace E al prossimo episodio Ciao